Allora, Antonino Guerra è tipo, credo che sia uno degli artisti totali, complementari che ci siano in Italia, lui comunque nasce come pittore, scultore e comincia a lavorare tanto nel cinema grazie ad Antonioni perché Antonioni lo scopre e diciamo che poi col giro del cinema di quegli anni in Italia conosce anche Fellini nel quale lavora in alcuni film come Amarcord, Casanova, come nelle scenografie, ad esempio c'è questa scena bellissima di Casanova, proprio iniziale dove a un certo punto ci sono tutte le navi, le barchette a Venezia e lui l'acqua praticamente la trasforma con dei sacchetti di plastica neri e fa in modo sì che sembrano tipo delle onde durante la notte con tutti i giochi di luci, lui riesce a creare una scenografia con l'acqua, che è quella tutta la rivisitazione del teatro, poi lavora con Antonioni ad esempio nel film di Zabrisky Point dove ci sono tutte le parti di esplosioni, in blow up sempre di Antonioni, con Fellini poi Amarcord ha costruito, cioè ha lavorato tutta la parte di scenografie e poi si vede che comunque lui è pop art perché poi qui ci sono tutti dei colori stupendi, cioè che richiamano tutto quel giro di artisti italiani, di tutto quello che è da Manzoni a tutto quello che è questo colore di dipinti che secondo me sono stupendi e poi qua c'è tutta la sua parte tipo di infanzia in tutti questi dipinti che poi non sono anche molti senza titoli e niente diciamo che lui poi diventa scenografo durante il periodo del cinema dopo la seconda guerra mondiale in Italia e anche questa scultura è bellissima, la chiesa, tutti questi colori che appunto richiamano il pop art e tutto quello che è il pop bravo Rochelle grazie